Buonasera da Nicola Dai, come ti chiami? Come ti chiami? No, come non ti chiami? Buonasera da? Buonasera da? Da? Da chi? Tantemi di tuo nome Scusa, io sono... Tonto No Tu Ah, vai Tu sei tonto No, ascolta, io sono Nicola Lo so E tu? Io no No, ascolta, fa una cosa, ripeti quello che dico io Ripeti quello che dico io, ma non così Ma non così, dai Io 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 Sono Sono Isotta Ma che stai diso? Io è Isotta Questo gli devi dire Ah, ho capito Vai Signori, lui è Isotta No Scusate, lei fa così, ma fatela finita Le scimmie sono i mali intelligenti Io per questo E' uno dei mergioli per cui l'ho scelta No, io chiedo io che è che ti ho scelto Dai, dai, dai Allora, dicevo Quando ho cominciato a fare questo lavoro Che lavoro hai? Faccio il ventrilo qua Eh? Il ventrilo qua ti faccio Vabbè, lasciamo stare Allora, dicevo Quando ho scelto di fare questo lavoro Avevo delle diverse possibilità Scegliere degli animali Tra cui la scimmia Eccola Lei è una scimmia Eh Oh, guarda tu che caso Che? Eh? Che? Sono a scimmia È certo che sia una scimmia È arrivato Quindi Si vede? Certo che si vede Però Per fargli capire Per fargli capire alla gente Perché ho scelto Una scimmia Eh Ecco E mi sembrava carino Una scimmia che Parlasse Eh Ecco 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 E appunto Che? La scimmia che parla Che c'è di strano? Come che c'è di strano? Non c'è di strano Dite Prendi la scimmia Eh In natura Una scimmia vera Perché io non so che era Beh In certo senso In qualche modo Sì però Dicevo In natura La scimmia Non parla Ah no Eh no E che Che dicono? Che ne so Al limite fanno Uh uh Ah 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 Eh? Che so Uh uh Ah 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 Non ride È così che parlano le scimmie Che ne so Ma non verso la scimmia Lo dovresti sapere meglio di me Ma chi ne è lui la scimmia Allora Dicevo Eh Le scimmie in natura Non parlano Già questo fa ride Perché tu la vedi E già Già Con sta faccia fa ride L'hai vista la tua? Dai dai È carina E tu no Ecco Vabbè però dicevo Con sta faccia Già Già la gente ti vede E E sorride Fa ride no? Perché? Eh perché sei Sei particolare Sei una scimmia Ma ti sei mai visto Dico Dai Dai Basta Allora dicevo Già ti guarda E era una cosa simpatica La seconda cosa È che Dai basta La seconda cosa Dai ferma La seconda cosa È che la scimmia Che parla Fa ride Perché in genere Non parlano Non parlano Dai Non in genere Le scimmie no Allora sto zitta Eh magari C'è riuscisi Ma non già riesci Tu non già riesci Come no? Eh no Magari stai zitta un minuto Non stai zitta un minuto Stai sempre a parlare No 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 Io ce la faccio Ma fa che? La sta zitta Allora sta zitta Ok Vai Che devo fare? Devi sta zitta Ok sta zitta Non dico niente Dai Non dico niente 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 Zitta vai Ok Quando devo sta zitta Da adesso Ah ok Facciamo una cosa Schiocco le dita Da quel momento Inizia il silenzio Ok È pronta? Sì Vai Schioccano le dita Da questo momento Non dovrei dire Niente No devi sta zitta Ah scoccato Eh certo Quando schiocco Silenzio Ok Vai Pronta? Sì Uno Due Cinque Tre Cinque tre No Uno due Io dico uno due tre Via schiocco le dita E tu sei zitta Ok Vai Non hai detto che uno due tre Va bene lo dico Lo dico scusate C'è ragione Uno due tre Via Da questo momento Non devo di più niente Sono zitta Non dico niente Vedi Da come Ma mai sta a parlare Oh Corco cane C'è ragione Ecco dai Allora Schiocco E silenzio Silenzio Non di una parola Niente parole Vai Dividi uno due tre Dai Uno due tre Via Che c'è Stai a canticchià Eh Non è Non è parole Ho capito ma uguale Ah neanche canticchià No devi sta zitta Silenzio No no Quello non ce la faccio Eh vedi non ce la fai Non ce la faccio sta zitta Ecco Va bene allora Abbiamo appurato questo Io ho scelta perché Non ce la faccio sta zitta Vabbè più o meno Più o meno a questo Dico di una cosa Che devi di Il segreto Che segreto Il mio Ah il segreto di sotto Vai Signore signore No 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 Non lo dico quello eh Che Quello dei Si quello di No 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 Non lo dico Lo diciamo la prossima volta Ok Intanto allora se volete sapere Qual è il segreto di sotto Si Iscrivetevi così la prossima volta Arriverà la notifica Quando noi avremo pubblicato Il prossimo video Si col segreto di sotto Col segreto di sotto Si Se vi è piaciuto questo video Mi raccomando Mettete like Se non vi è piaciuto Fatevelo fare i vostri Ecco Ecco Se volete commentare Fate richieste Quello che vi pare Noi ci vediamo la prossima volta Ciao a tutti 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 Ciao a tutti